la maschera della morte rossa per lungo tempo la morte rossa aveva spopolato la contrada mai sarà vista una pestilenza tanto orribile tanto fatale il male si attaccava al sangue e si manifestava in tutto il rosso orrore del sangue da prima erano dolori acuti improvvise vertigini seguiva poi un copioso trasudare senza fine che portava al dissolvimento dell'essere cazze purpure sulla pelle sulla pelle del volto in specie rendevano le vittime così ripugnanti che venivano fuggite da tutti lasciate senza conforto né aiuto il manifestarsi del male e il suo progredire risolversi erano in tutto questione di una mezz'ora ma il principe prospero restava ugualmente felice e dimostrava la propria intrepidezza e la propria sagaccia quando vide che le sue terre s'erano per metà spopolate convocò un migliaio circa dei suoi amici tutti pieni di vita e baldanza scegliendoli tra cavalieri e dame della sua corte e riparò con essi nel remoto rifugio ad una delle sue abbazie fortificate che era edificio vasto e magnifico creazione sua personale di stile eccentrico e non meno grandioso cento di spesse ed alte mura nelle quali si aprivano delle porte di ferro quando i cortigiani furono là dentro col fuoco e dei buoni martelli saldarono ogni serratura intendendo così di assicurarsi contro i possibili impulsi disperati di chi stava fuori e di chiudere ogni via d'uscita alle frenesie di chi ci stava dentro la pazzia fu largamente munita e provvista con simili precauzioni i cortigiani potevano sfidare il contagio se la vedesse con esso chi stava fuori intanto sarebbe stata follia affliggersi o solo darsene pensiero il principe aveva provveduto a tutti i mezzi del piacere si era portato dietro buffoni improvvisatori musicisti e ballerini e poi la bellezza il vino c'era tutto questo e la sicurezza al di dentro fuori la morte rossa sulla fine del quinto mese o sesto che fosse nel suo ritiro mentre fuori la pestilenza infieriva più che mai il principe prospero offrì ai suoi mille amici un ballo in maschera straordinario di magnificenza volutuoso spettacolo la mascherata ma anzitutto importa descriverle sale ovesso ebbe luogo sette erano in una fuga di imperiale grandiosità in molti palazzi quando i battenti delle porte siano d'ambo le parti rivolti contro i muri se fatte serie distanze formano lunghe prospettive in linea retta per entro le quali lo sguardo corre sino in fondo senza trovare ostacoli là come era da aspettarsi da parte di un principe tanto amante del bizzarro il caso era assai differente le stanze erano così irregolarmente disposte che l'occhio non riusciva ad abbracciarne più di una alla volta ad ogni 20 o 30 yard vi era una brusca svolta e ad ogni svolta si aveva uno spettacolo di effetto assolutamente nuovo a destra e a sinistra nel mezzo di ogni parete un'alta e stretta finestra gotica si apriva sopra un corridoio che seguiva le sinuosità dell'appartamento ogni finestra era a vetri colorati i cui colori variavano da sala a sala per essere in armonia con le decorazioni delle singole stanze ad esempio la stanza che si trovava all'estremità orientale tutta tappezzata in azzurro aveva le finestre luccicanti di celeste la stanza che seguiva era decorata in rosso porpora e i vetri delle sue finestre erano purpurei la terza interamente verde aveva finestre dai vetri verdi e allo stesso modo era arancione la quarta bianca la quinta viola la sesta la settima stanza era fittamente rivestita soffitto e pareti di tappezzeria in velluto nero che ricadevano in pieghe pesanti sopra un tappeto di uguale stoffa e colore solo in quella stanza il colore dei vetri delle finestre non corrispondeva a quello della decorazione la erano scarlatte le in vetriate scarlatte con intensità del sangue ora in nessuna delle sette sale si vedevano tra la profusione degli ornamenti d'oro che pendevano anche dal soffitto lampade o candelabri non esisteva luce alcuna di lampada o di candela per tutto quel seguito di stanze e però nel corridoio che lo cingeva e precisamente dinanzi ad ognuna delle finestre ardeva su un enorme tripode un bracere che proiettava attraverso i vetri colorati i suoi raggi riempendo ad una fulgida luce la stanza nel qual modo si erano ottenuti infiniti effetti di fantastico sfarzo ma è da notarsi che nella camera aponente quella nera la luce riverberata attraverso i vetri color di sangue sulle funebili tappezzerie riusciva sinistra all'esterno e dava ai volti di chi vi entrava un così selvaggio aspetto che ben pochi della compagnia avevano il coraggio di varcarne la soglia per l'appunto in quella sala si trovava appoggiato al muro di ponente un gigantesco orologio d'ebano andava il pendolo con un sordo pesante monotono l'intocco e tutte le volte che la lancetta dei minuti aveva compiuto il giro del quadrante e l'ora stava per scoccare un forte profondo chiaro suono musicale usciva dai polmoni di ottone della macchina tanto particolare e solenne che ad ogni ora i musici dell'orchestra erano costretti a far pausa per ascoltarlo così che quanti danzavano dovevano interrompere le loro evoluzioni e la gaia compagnia veniva colta da un momentaneo turbamento che faceva impallidire ai più agitati mentre le persone più calme ed anziane si passavano la mano sulla fronte quasi meditassero o si trovassero in preda a qualche imbrogliata fantasticheria appena però gli occhi di quel suono erano svaniti una lieve ilarità serpeggiava tra i festanti e i musici guardandosi a vicenda sorridevano del loro stolto nervosismo e si scambiavano sotto voce il giuramento di non lasciarsi impressionare dai prossimi rintocchi ma ecco che trascorsi 60 minuti ossia 3.600 secondi l'orologio tornava a suonare e si ripetevano il turbamento l'agitazione e le preoccupazioni di prima ma nonostante tutto l'orgia trascorreva in gaia magnificenza il principe era di gusti singolari e aveva finezza d'occhio per i colori e i loro effetti disprezzava le cose di pura e semplice eleganza avventato ed audace in quanto progettava finiva per dare uno splendore barbarico a tutte le sue concezioni taluni lo avrebbero certo giudicato pazzo chi gli stava attorno sapeva che non lo era ma bisognava sentirlo e vederlo per essere sicuri che non lo era nell'occasione di quella grande festa egli aveva curato di persona l'abbellimento delle sette sale e aveva imposto il suo gusto per i travestimenti delle maschere certo si trattava di concezioni grottesche tutto splendore scintillio e del fantastico mordace molto di ciò che poi si è visto nell'ernani c'era un figura di assoluto arabesco fornite di membra spropositate in assurdo equipaggiamento immagini di delirio come potrebbero uscire dal cervello di un pazzo c'era del bello del licenzioso del bizzarro un po di terribile anche ma soprattutto cose che destavano ripugnanza era una moltitudine di sogni che camminava impettita per le sette stanze e si contorcevano codesti sogni per ogni verso cambiando colore col passare da una stanza all'altra mentre la musica dell'orchestra sembrava l'eco dei loro passi e di tratto in tratto ecco che batteva l'orologio debano della sala di velluto tutto allora per un momento diveniva fermo silenzioso e non sudiva che la voce dell'orologio i sogni restavano come agghiacciati nelle posizioni in cui si trovavano ma poi svaniva l'eco dei rintocchi non sarà trattato che di un attimo e un riso leggero per metà soffocato correva tra i festanti e la musica tornava ad alzarsi i sogni riprendevano a muoversi e più ebri e folli di prima si contorcevano in ogni senso colorendosi del colore che il fuoco dei tripodi riversava su di loro attraverso i vetri delle finestre ma nella stanza in fondo giù a ponente nessuna maschera osa più avventurarsi è notte ormai e la luce fluisce più rossa attraverso i vetri color di sangue è terribile il bruno delle funebili tappezzerie e a chi mette piede sul lugubre tappeto più solenne e largo arriva il rumore dei rintocchi assai più che non arrivi alle orecchie di chi si sofferma a folleggiare più lontano nelle altre stanze nelle quali gremite di gente pulsava con ritmo febbrile il cuore della vita e l'orgia turbinò e turbinò sino che infine cominciò a rintoccare mezzanotte e come al solito la musica si arrestò le danze vennero interrotte e ogni cosa rimase immobile in penosa sospensione ma stavolta erano dodici colpi per cui può darsi che le riflessioni di quanti tra quella folla in baldoria erano ancora capaci di pensare fossero più lunghe e profonde e per questo forse prima che l'ultima eco dell'ultimo rintocco venisse del tutto sommersa dal silenzio venne fatto a parecchi di notare la presenza di una maschera di cui sino allora non si era accorto nessuno come la voce di tale intrusione fece sommessamente il giro delle sale un ronzio si levò da tutta la folla un morbolio di sorpresa e disapprovazione che alla fine divenne di terrore orrore e disgusto in una riunione di fantasmi qual era quella mascherata bisognava senza dubbio che si trattasse di un'apparizione straordinaria per produrre tanto turbamento in vero la libertà nel mascherarsi non aveva quasi avuto limite quella sera ma il personaggio in questione aveva superato lo stesso erode e abusato dell'indulgenza del principe vi sono accordi anche nei cuori più indifferenti che non si possono toccare senza provocare un'emozione anche per gli esseri più depravati che della vita e della morte si prendono ugualmente gioco vi sono cose con le quali non si può scherzare così parve che tutti sentissero profondamente il cattivo gusto e la sconvenienza del costume e del contegno di quell'estraneo alto magro egli era avvolto da capo a piedi in un sudario la maschera che ne celava il volto raffigurava con tanta perfezione le fattezze di un cadavere irrigidito che sarebbe stato difficile anche ad un minuzioso esame scoprirne l'artificio nulla di meno quei folli gaudenti lo avrebbero se non approvato tollerato ma la maschera si era spinta al punto di assumere il tipo della morte rossa aveva il manto chiazzato di sangue e la larga fronte e tutto il viso cosparsi dell'orrore rosso quando gli occhi del principe prospero caddero su quella immagine spettrale la quale quasi è meglio sostenerla a sua parte incedeva a passi lenti enfatici solenni tra la folla che danzava a tutta prima egli fu scosso da un emito di terrore e disgusto quindi lo si vide arrossir di collera chi osa domandò con voce estruzzata ai cortigiani che gli stavano intorno chi osa insultarci con questa bestemmia schernitrice afferratelo smascheratelo così sapremo che abbiamo da appiccicare agli spalti al sorgere del sole il principe prospero si trovava nella sala azzurra a levante quando pronunciò quelle parole le quali si ripercossero forti e distinte in tutte e sette le sale siccome il principe era un uomo imperioso e dei tante a un cenno della sua mano la musica sarà taciuta si trovava nella sala azzurra il principe e aveva intorno un gruppo di palli di cortigiani mentre gli parlava vi fu nel gruppo un leggero movimento nella direzione dell'intruso il quale era anche a portata di mano ed un passo maestoso e risoluto si andava sempre più avvicinando ma un'indefinibile paura suscitata appunto da tanta insensata audacia si impadronì dei cortigiani e nessuno alzò mano per afferrarlo tanto che come non gli veniva impedito e gli passò a una yarda dalla persona del principe e mentre la folla in un unico impulso si ritirava adossandosi ai muri senza mai sostare e sempre con lo stesso solenne passo cadenzato per il quale sarà subito distinto poter andare dritto di sala in sala dall'azzurra alla purpurea da questa alla verde dalla verde a quella arancione dall'arancione alla bianca e dalla bianca alla viola prima che si facesse qualcosa per fermarlo ma ad un tratto il principe prospero reso furente dall'ira e dalla vergogna della sua viltà ad un momento gli si slanciò dietro a precipizio attraverso le sei stanze nessuno per il mortale terrore che si era impadronito di tutti lo seguì e gli brandiva un pugnale e già nel suo impeto stava per afferrare lo straniero quando questi che era giunto in fondo alla stanza di velluto bruscamente si volse ad affrontarlo sudì un grido acuto e il pugnale scivolò con un lampo sul tappeto nero sul quale un attimo dopo si abbatteva morto anche il principe prospero animati dal coraggio selvaggio della disperazione i cortigiani si precipitarono in folla nella sala nera ma nell'afferrare lo sconosciuto che se ne stava ritto ed immobile nell'ombra dell'orologio debbano rimasero inorriditi senza respiro trovando vuoti da ogni tangibile forma il sudario e la maschera da cadavere che si erano affannati a strappare con tanta rude violenza si conobbe così la presenza della morte rossa come un ladro era venuta di notte e a uno a uno i convitati caddero nelle sale dell'orgia irrorate di sangue e come caddero negli atteggiamenti della disperazione rimasero morti con la vita dell'ultimo di quei gaudenti si estinse anche quella dell'orologio debano le fiamme dei tripodi si spensero e le tenebre la rovina la morte rossa stabilirono su ogni cosa il loro dominio senza limiti